Ciao a tutti ragazzi, oggi è il 4 febbraio 2014 ed è arrivato il nostro master del nostro primo lavoro, conterrà la vostra canzone preferita, costerà 2 euro e sarà disponibile al nostro primo concerto che sarà intorno a marzo. Vi aspettiamo numerosi, vi aspettiamo incazzosi e vi aspettiamo sudati e poganti. Bene, posso? Ciao, ciao, ciao. Figa se è dritto. Sì, Dory, stai sciando? L'unico che c'è la preghia c'è chi ha. Oh, bella raga. Allora, questo, lo vedete bene, è il nostro nuovo singolo che è arrivato oggi, 4 febbraio. Noi siamo i Falling Dice e sarà disponibile con le stampe, tutto copertina, al costo di 2 euro dal prossimo concerto che sarà circa a marzo, quindi venite numerosi, bella, pezza e puzza insieme ai Falling Dice, bella raga. Allora, noi siamo i Falling Dice e questo che vedete è il nostro nuovo singolo con la vostra canzone preferita e costerà 2 euro e sarà disponibile il primo concerto che faremo che sarà intorno a marzo. Oggi, attenzione, 4 febbraio 2014 è arrivato il master del nostro primo lavoro e quindi vi aspettiamo. E' uscito il rack rosso. E' uscito adesso? Adesso sta andando. Ok, dammi la mano che ho trovato la posizione. Sì. Ci sono? Sì. Non so se ci devo sempre pensare io perché loro... Eh. Bella raga, oggi è il 4 febbraio 2014, è arrivato il master del nostro primo lavoro. Non a volta. Non a volta. E... Cazzo, però dopo mi distraete, non so che posso dire. Eh, vai avanti, tanto... Tuoi tagli, incolli. Tagli, incolli. No, dai. Ma il prezzo, il prezzo. Eh, il prezzo. Io, ma dai, ce ne ho fatto il coglione. No, lascia, 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 lascia. Dai, ma quando fanno meglio i Pantella, ci vediamo. Allora, ricominciamo da capo, tanto poi lui taglia tutta sta febbraio. Io, io, non c'è il problema. Allora, ricominciamo da capo. In senso che dopo vedo, allora, intaci. Non dico niente io. Allora, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, stessi. Ma no.